ok dobbiamo esserci ecco ci siamo perfetto allora buonasera a tutti grazie come sempre di essere con noi e di seguirci come permesso questa settimana parliamo di divise questo argomento così così delicato perché le divise sono quella cosa che ahimè viene considerata troppo poco e soprattutto vengono spesso scelte delle divise per il personale ai piani che non rispecchiano nella loro professionalità nemmeno hanno il rispetto del loro corpo perché perché molto spesso vediamo in giro io parlo dell'italia non dell'estero ho esperienze sempre solo in italia vediamo in giro delle cameriere piani che hanno addosso quello che io chiamo il sacco delle patate quindi oggi abbiamo con noi una professionista del settore delle divise lei è Mara Zanni Mara ha uno showroom meraviglioso a Rimini ne sono rimasta e adesso che finalmente possiamo ripartire si spera davvero Cornelia ed io andremo da Mara a farci vestire per il lavoro perché ha davvero un gusto fantastico allora saluto anche Maria Rita e Cornelia che sono con noi e tutte le persone che iniziano ad esserci anche in rete su Facebook e do la parola a Mara Zanni che bello che bel pomeriggio bene grazie di questo invito graditissimo saluto tutti i presenti quelli che conosco e anche quelli che si sono diciamo congiunti con noi in questo momento per ascoltare diciamo la nostra la nostra versione la nostra esperienza diciamo in questo campo di questo tipo di abbigliamento che è un abbigliamento abbastanza particolare a volte poco considerato però per fortuna adesso sta emergendo molto la figura delle persone in divisa e e perché no diciamo proprio specialmente nei negli alberghi nei posti pubblici è sempre una cosa che dà un tono dà un'importanza e dà un bel senso di ordine perché la divisa è ordine allora non vorrei essere troppo presentuosa diciamo nel dire queste cose perché chiaro è mi è facile io faccio divise quindi esprimo il meglio per per le divise anche no perché ho scelto di fare questo lavoro dopo diversi anni che lo facevo appunto per per un'azienda ho scelto di fare proprio questo lavoro personalmente perché voglio dare un'importanza ho voluto dare diciamo perché sono già 22 anni che faccio questo questo diciamo tratto questo argomento e questo settore proprio perché ho voluto dare di mio un'importanza maggiore a queste divise perché la divisa era diventata uno standard così anonimo insignificante e anche poco appetibile diciamo per chi la deve indossare per chi la deve portare quindi ecco il sacco delle patate è una rappresentazione molto molto chiara di quello che poteva essere io ho fatto questa scelta ho messo di mio ho messo la mia persona ho messo i miei investimenti proprio per poter dedicare alla divisa un'importanza tanta quanto un qualsiasi abito anche se da lavoro ma molto importante importante per la persona che lo deve indossare perché si deve sentire libera comoda bene e perché no anche elegante mentre lavora questo è il voler rispettare diciamo le persone secondo il mio punto di vista per poterle far lavorare al meglio con una cosa gradevole piacevole quindi lavoro anche più volentieri diciamo il mio lavoro mi pesa di meno piuttosto che dovermi un po' vergognare o imbarazzare nel farmi vedere come non vorrei e e questo mi consente di dare maggior visibilità poi anche alla struttura stessa che mi offrite e che mi dà lavoro perché è importante quello vedere diciamo il personale in divisa è una cosa molto importante molto bella e fa onore sia alla struttura che alle persone che le indossano detto questo noi facciamo un tipo di abbigliamento diciamo anche a volte su misura su espressa volontà del nostro cliente per poter proprio andare incontro a tutte le le loro esigenze diciamo a tutte quasi al 90% perché poi il 100% non ce l'abbiamo neanche noi quindi potremmo solo dire di avere una bacchetta magica se così fosse ma non ce l'abbiamo la bacchetta magica è per tutto quello che possiamo e siamo in grado di fare lo facciamo ma lo facciamo con immenso piacere proprio anche in collaborazione con i nostri clienti perché no che siano i direttori degli alberghi che siano comunque le governanti che ci danno suggerimenti anche perché ogni loro suggerimento è un momento di crescita per noi ecco l'argomento di oggi che vogliamo trattare è proprio questo l'importanza della divisa credo diciamo in questo lasso di tempo di aver dato un po' lo specchio dell'importanza della divisa ma ci sarebbe tantissimo ancora da dire per quanto può essere importante la divisa importante perché con la divisa io mi sento far parte di quella struttura mi sento far parte di quel team e un team che gioca bene diciamo la sua carta è un team vincente perché porta del frutto diciamo positivo alla struttura e porta dei risultati diciamo nei confronti degli ospiti dei clienti che frequentano queste strutture quindi anche un team che lavora in sintonia è una bella cosa e la sintonia la crea anche proprio la divisa stessa perché se io mi trovo in una struttura dove ho davanti a me non so mi circolano 30 dipendenti ognuno vestito come con banalmente con una maglia un pantalone ma senza indicazione senza nessun riferimento oppure non so la receptionist che ha un qualsiasi un banalissimo tagliere uguale a 1500 persone che possono averlo può essere anche un modo di non riconoscimento perché io la riconosco solo nel momento in cui lei è dietro quel banco oppure mentre sta facendo quella cosa mentre invece io come ospite ho bisogno di riconoscere il personale di questo albergo o di questa struttura anche se fuori dal suo posto di lavoro perché se devo rivolgermi a qualcuno quantomeno so e lo riconosco da un'identificazione che gli dà l'abbigliamento che fa parte di quella struttura altrimenti se io vedo una persona con un tagliar nero non so se sia una governante se è una recepzionista non so se sia un ospite o se sia una hostess che magari di un convegno che in quel momento si sta svolgendo non lo posso sapere quindi la divisa è molto importante e non per ultimo diciamo un gruppo di persone che indossa la divisa fa massa fa team fa servizio anziché vedere tante persone ognuno con un abito diverso non mi fa riferimento non ho riferimento mentre invece se vedo questo team dico bene mamma mia questo albergo come è ben servito come come è ben così tutelato nei confronti di noi clienti perché guarda quanto personale c'è mentre invece se lo vedo ognuno con un proprio abito con un abito diverso si mischia in mezzo agli altri e non capisco veramente se c'è un servizio completo se c'è un qualche cosa che mi può dare una maggior soddisfazione o una maggior tutela ecco questo questo è quanto quindi diciamo sempre che la divisa magari anche semplice modesta però è bella fa onore a chi la porta io dico a chi la indossa e fa onore alla casa che ospita diciamo che ospita i suoi clienti che ospita diciamo queste 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 strutture che comunque sono ospitalità questo è il mio il mio concetto e proprio per questo come vi dicevo prima ho voluto ho avuto il piacere di abbracciare 360 gradi ero dipendente e ho voluto proprio dare questo questa bella visibilità alla divisa al settore della divisa ed è una cosa molto bella ripeto io sono stata nello showroom di Mara Cornelia non ero con te ero con Nelson forse sì con Nelson ero mio marito e io lo chiamo showroom sì è uno showroom atelier diciamo perché anche chi lavora comunque quando acquista il suo vestito deve sentirsi anche se acquista il vestito di lavoro deve sentirsi importante perché è importante non perché deve solo ma è importante che si trovi in un ambiente diciamo accogliente dove si trova a suo agio anche se deve scegliere il grembiule per lavorare questo è questo è il mio rispetto per perché deve indossare la divisa di fatti la divisa che purtroppo viene molto spesso comprata a occhio nel senso che vengono comperati un numero di divise per le aziende spesso su internet dove tu è tutto dire per risparmiare e che cosa succede arriva anche Fabrizio Famularo che cosa succede quando acquisti mille pezzi cento pezzi cinquanta pezzi da internet succede che non hai neanche toccato il tessuto cameriere piani governanti che siete in linea ciao Fabrizio ciao ciao Fabrizio ciao buongiorno a tutti noi che lavoriamo negli alberghi innanzitutto se siamo assunti dagli hotel abbiamo delle divise anche di tessuti decenti oso dire perché l'hotel le sceglie da determinati fornitori e c'è una scelta vengono a prendere le misure quindi la persona che veste la divisa veste la sua divisa perché sulla sua pelle sui suoi centimetri mentre quando lavoriamo nelle società outsourcing abbiamo gli avanzi io li chiamo gli avanzi i sacchi di patate perché non in tutte le outsourcing per l'amor del cielo però nella maggior parte purtroppo sì e hanno tutti quei grattolini neri col davantino bianco che è un tessuto così poco poco come si dice di qualità poco nobile ecco poco nobile che lo indossiamo dopo un quarto d'ora appuzziamo di sudore lo mettiamo in lavatrice e il colletto diventa grigio quindi vuol dire che qualcosa non va oltretutto spesso il taglio della divisa è fatta non so come e quindi io richiamo appunto i sacchi di patate che succede poi se la governante dell'hotel ha una divisa perché l'hotel gli acquista la divisa la governante dell'outsourcing va all'HM da Zara perché questo è e da quali sono gli altri se non me li ricordo e si va ad acquistare il taglier giacca pantalone nero anonimo che abbiamo come diceva prima Mara chiunque potrebbe averlo anche un cliente quindi pensa pensa a te il cliente come si potrebbe sentire con lo stesso taglier della governante esatto immagina tu la cliente quando arriva se per caso fosse che si trova vestita come la governante esattamente la governante può essere vestita meglio della cliente ma non uguale assolutamente e questo è lo sbaglio questo è uno sbaglio grossissimo perché altrimenti c'è Max Mara ci sono tante tante aziende che fanno i taglier più belli forse anche dei miei però i miei sono identificativi i miei sono quelli che si usano in quell'ambiente esatto perché se io mi metto un taglier di Max Mara e sono una governante o sono una recepzionista non oso pensare come rimanga la cliente che o ce l'ha nell'armadio uguale o ce l'ha indosso creiamo una disparità un qualche cosa e lì abbiamo già creato un muro tra noi e il cliente sì perché manca poi si perde la professionalità si perde la professionalità si perde l'identità e dice guarda questa qui ha il taglier che ho io in casa io non me lo metto più magari appunto magari se è un abito da ballo che andiamo a ballare insieme ok però ecco il cliente non vuole mai mettersi a un pari di chi ha in quel momento una divisa che comunque deve avere una funzione di divisa esatto questo è un rispetto è un rispetto che parte diciamo alla base poi ognuno è com'è e ognuno fa le scelte che vuole perché per carità noi non siamo qua per cambiare il mondo siamo solo qua per fare il nostro lavoro i fatti ci hanno dato ragione perché infatti in questi anni siamo cresciuti cresciuti con l'aiuto dei nostri clienti con i suggerimenti con i consigli e abbiamo una clientela fidelizzata da più di 25 anni questo è ancora oggi sono nostri clienti fedeli questo ci fa pensare diciamo che comunque riusciamo a trasmettere qualche cosa che non delude vero c'è una persona su facebook che fa un commento te lo voglio leggere si chiama Natalia dice buon pomeriggio lei ha completamente ragione ogni albergo che si rispetta a parte la divisa il personale anche la targhetta con il nome reparto e il nome del reparto da qualche fa parte anche aspetta che dobbiamo tradurre perché Natalia per quanto sia in Italia da 600 anni qualche parola non in italiano lo scrive perdonami Natalia in Russia stai tranquilla che ne perdo di parecchi di parole dice che alcuni alberghi dove tutti i reparti ecco ci sono compreso ok scusatemi dovevo fare la traduzione simultanea allora sostiene appunto che è vero che si ha la divisa e che abbiamo le targhette ma molto spesso tra reparti che può essere il ristorante con la cucina con i piani piuttosto che il ricevimento piuttosto che magari anche la spa o i sali congressi hanno tutti la stessa identica divisa e questo probabilmente non è non è il massimo perché assolutamente no perché immagina te immagina tu immagina se io posso pensare che un facchino può anche andare in sala cioè oppure quello della sala è andato a fare altri lavori fuori prima di venire a servire il pranzo cioè è inimmaginabile è vero è inimmaginabile Martina ci scrive Martina come cameriere piani il classico vestitino fino alle ginocchia carino ma scomodo quando ci si inchina o quando si fa dei movimenti con le braccia soprattutto quando in estate si suda chiaro io racconto una mia esperienza il primo anno che ho fatto la cameriera ai piani era il 1997 aprile maggio del 97 lì andai a lavorare all'epoca si chiamava Hotel Hermitage faceva parte della Monriff Hotel oggi è l'Hotel Leonardo come hotel qui a Milano avevamo questi grembiolini io ci sentivamo i puffi erano a quadrettini piccolissimi bianchi e azzurri io ero secca 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 quindi già la S non mi stava ma siccome ero un extra mi davano quello che c'era mi capitava la L la XL io poi sono piuttosto piuttosto alta vero Fabrizio sono molto alta io allora mi capitavano queste divise enormi che se al martino arrivava il ginocchio mi arrivavano quasi alle caviglie immagina tu con quale spirito lavoravi mi vergognavo treventemente questo è quello che io ho premesso da subito perché è quello me crei imbarazzo alle persone non lavori bene non lavori sereno non vedi l'ora di togliertelo invece il lavoro deve diventare anche un piacere perché altrimenti quando incontri il cliente ti nascondi ti nascondi per forza ma è meglio che ti nascondi perché se il cliente ti vede così voglio dire perde anche la credibilità anche perché Barbara facciamo il conto se io come cliente vedo la cameriera in disordine o con questa cosa sciatta cosa mi viene da pensare questa cameriera va nella mia camera mette le mani nelle mie cose e a me non dà neanche il piacere o la soddisfazione di pensare che posso aver pulito bene la mia camera perché se è così sciatta di suo come può andare a fare le pulizie in una camera cioè mi dà mi crea mi crea veramente un disagio e invece cosa dobbiamo dobbiamo fare dobbiamo far sì che la cameriera dia un aspetto carino armonioso praticamente come la colf che tutti vorremmo in casa che vorremmo avere in casa nostra ecco questo deve darci la cameriera una sensazione di bello di fresco di pulito perché quando esce dalla nostra camera deve lasciare questo questo sapore e se io vedo una persona che non è in ordine di suo proprio devo pensare che non sa neanche fare bene il suo mestiere e purtroppo sì diamo quell'impressione diamo l'impressione del primo arrivato quindi l'hanno trovata alla strada parlo di me in quella volta l'hanno vestita con ciò che c'era quindi l'hanno arrangata perché non c'era altro brava né di divisa quindi effettivamente si fa una pessima figura esatto triste io quando faccio i corsi al personale quando vado negli alberghi soprattutto che vedo le cameriere tutte che si la maggior parte sono tutte che si nascondono io dico sempre indossa la divisa con orgoglio tira sulle spalle tira fuori il petto proprio dell'orgoglio e cammina testa alta perché tu hai una divisa che ti dà un ruolo e tu hai una potenza unica in hotel perché sei tu che curi le camere dell'albergo quindi assolutamente ha le cameriere piani soprattutto in questo caso che sono sempre quelle con le divise peggio messe perché non tutti le scelgono belle da vedere con tessuti che non le fanno puzzare perché parliamo di puzza anche noi lavoriamo chi fa la cameriere piani suda c'è poco da fare deve lasciare l'odore dentro la camera puoi immaginare quindi se ho un abito che lascia cattivo odore ovviamente quindi su questo perché ho voluto con noi oggi Mara perché Mara è veramente una professionista io ripeto mi sono innamorata del suo showroom e adesso ci si può passare grazie grazie a farci una divisa da te perché me ne sono innamorata di una in particolare spero che ci sia ancora ecco e e quindi verremo sicuramente perché andando in giro effettivamente anche noi purtroppo per via del fatto che siamo sempre di corsa ci andiamo a vestire un po' con ciò che troviamo andiamo a un negozio succede succede sì d'accordo a me sta bene la gonna a te sta bene il pantalone cerchiamo di avere la giacca simile ecco invece è importante se rappresentiamo una stessa azienda o ci muoviamo per conto di una stessa azienda dare un'identità quindi l'identità è importante molto e le divise un bel divise anche se dobbiamo lavare i gabinetti perché perché le divise sono una distinzione cioè è professionalità quindi la divisa deve essere importante il problema delle divise è secondo perché l'albergo magari investe di più rispetto ad una società outsourcing perché l'albergo assume il personale che poi vuoi o non vuoi passa indeterminato e quindi si spende un po' di più magari sulla divisa che cosa capita purtroppo nelle società outsourcing questo è il mio pensiero e nelle società outsourcing c'è un turnover incredibile di personale per cui si compra quello che si può comprare perché si sa che quella divisa magari dura tre settimane e poi non la si può dare ad un'altra persona perché la divisa non la si dà ad altri anche se forse qualcuno lo fa ma lo si può anche fare Barbara lo si può anche fare perché i nostri tessuti lente scusa prego vai vai dicevo lo si può anche fare perché è chiaro che se una ragazza lavora una settimana o 15 giorni certo è che chi fa l'investimento per le divise non è che possa metterlo nel conto questo perché con i nostri tessuti si possono disinfettare si possono sterilizzare e quindi un'altra persona che lo indossa è comunque pulito sterilizzato e onorato di essere di essere rinnovato quindi questa cosa qui è fattibilissima non 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 la stessa cosa con le scarpe le scarpe quello lì no perché magari allora è preferibile a questo punto farle acquistare alla persona e poi se va via diciamo dopo un mese o dopo 15 giorni se le paga altrimenti io gliele rimborso capito se fa parte del team le rimborso se va via prima me le ripaga e punto e se le porta via perché la scarpa non si può andare a disinfettare più di quanto ecco esatto e quindi diciamo comunque ci sono sempre dei buoni compromessi anche in queste in queste situazioni perché noi capiamo perfettamente quali sono le esigenze quali sono le necessità proprio per l'esperienza che abbiamo che ci dice ogni cliente quello che vorrebbe quello che desidererebbe noi andiamo a metterci ogni volta una pedina per poter raggiungere diciamo non dico il massimo perché quello lì non lo raggiungeremo mai neanche se lavoreremo altre 150 anni però per andare incontro un pochino a tutte queste esigenze e ci sono dei diciamo diversi passaggi che ce lo possono permettere infatti poi ogni struttura ogni società diciamo ha delle necessità e cerchiamo di ragionarle insieme in modo di poter fare una cosa che conviene al cliente che conviene a noi per poter così ottimizzare e realizzare il progetto al meglio diciamo così a trovare un compromesso sì certo quello che dicevi quello che scusa se ti faccio questo appunto quello che dicevi tu prima che comprano le divise su internet e quindi comprano senza sapere che cosa comprono senza vedere le misure e la vestibilità ma non risparmi hanno niente non risparmi niente perché per avere il tutto devi prenderne comunque sempre in più quelle che sono in più puoi usarle malamente perché comunque non corrispondono mai alle taglie che ti servono e non risparmi niente perché nessuno regala niente questo è un dato di fatto è un dato che noi l'abbiamo appurato l'abbiamo proprio verificato poi sai la divisa diciamo ha la sua durata io oggi sono stata qui al nostro grand hotel di Rimini allora ho detto alla governante una carissima persona Beatrice una carissima persona proprio veramente mi ha detto Mara dobbiamo cambiare le divise della reception Barbara apri bene le orecchie aprile bene dice perché queste qui abbiamo cominciato quando abbiamo scoperto che si potevano lavare in acqua e in lavatrice e lo facciamo noi direttamente divise della reception del grand hotel di Rimini se vedi che giacca e che gonne che hanno una cosa splendida dopo quattordici anni Mara le dobbiamo cambiare apri bene le orecchie ho detto questo tu me lo devi mettere per iscritto tu me lo devi scrivere questo perché io a me non è mai capitato e non mi capiterà più nella mia vita che un cliente abbia le usano solo d'estate quattro mesi d'estate mi sta bene ma quattordici anni non ci potevo credere nemmeno io eppure quello era divise costruisse per loro per loro per loro con ma con i passaggi di persone che hanno avuto perché c'è stato il cambio di generale d'estate cambiano tantissimo d'estate ne prendono il doppio delle persone al ricevimento che poi non usano d'inverno quindi quelle d'estate cambiano ogni anno non ti posso dire la mia soddisfazione non te la posso raccontare perché è stata veramente ho detto tu me lo devi mettere per iscritto questo no no allora mi dici tu quanto hanno risparmiato quanto hanno risparmiato hanno preso tessuto di qualità oltre che sicuramente scelti in maniera visivamente bella perché anche una divisa una giacchina con tutto uno scollettone tessuto di qualità ma quanto hanno risparmiato quanto quante volte si sono ripagate quelle quelle divise assolutamente in 14 anni di lavanderia di stireria di portabilità quanto si sono ripagate quante volte si sono ripagate minimo dieci volte eh sì minimo dieci volte considerando tutti questi anni sì questo è poi diciamo che non tutti sono capaci a mantenerle in quel modo diciamo che non tutti le usano solo tre mesi all'anno diciamo tante cose ma 14 anni hanno la coda lunga ragazzi è un figlio grande 14 anni da quando nasce è un figlio grande per dirti direi proprio di sì quindi è un accompagnare e quest'anno dice quest'anno le cambiamo perché le ragazze si sono stancate cioè non perché sono rotte si sono stancate dice poi sai le fodder un pochino mamma mia ma dopo 14 anni quante rughe ho ancora in più io voglio dire certo questo è quanto quindi non è vero che si può risparmiare comprando su internet e spendendo poco subito perché se spendi poco ti dura poco esatto ci investi qualche cosa di più non dico il doppio ma se investi qualcosa in più hai un risultato triplico non doppio triplico quindi hai già risparmiato in partenza vero questo è capito facendo i conti non voglio fare i conti in tasca a nessuno però facendo due conti questa è la condizione vero verissimo e lo confermo verissimo allora Cornelia Maria Rita avete domande? diciamo che quello che hai detto tu corrisponde a verità i tessuti che ci hanno dato non sempre rispecchiano il lavoro che fai poi questi tessuti sintetici d'estate sono orribili anche le camicie se te li danno di cotone non è puro cotone sono orribili poi io ho sempre preferito dove ho avuto la possibilità di comprarmi io le divise e poi le nostre divise sono nere con la camicia bianca però ho sempre scelto il tessuto di qualità che io ci tengo certo 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 beh questa è una una cosa molto molto bella perché appunto come dicevamo prima chi si tiene alla divisa è una scelta che fa veramente col cuore e con anche il portafoglio perché no però non è detto che chi spende di più abbia buttato via dei soldi assolutamente no io vi porto l'esempio di oggi e questo qui per me rimarrà sempre nella mia vita professionale perché una cosa così non mi è mai capitata e questo è un esempio e questo è un esempio ma chi non dura 14 anni diciamo se sono persone capaci a mantenere i prodotti eccetera due stagioni li fanno eh sì un anno lo fa e quando hai fatto un anno con una divisa che porti 365 giorni all'anno caro mio io ho tanto di cappello tu pensa Mara che ci sono degli alberghi che dicono alle cameriere ai piani hai un pantalone nero hai una maglietta nera bene indossa quello e quindi spesso poi noi governanti ci troviamo a dover discutere con questa cameriera che viene con la magliettina con le labbra dei Kiss piuttosto che con i brillantini di Vattela Pesca e dice ma non hai una maglietta tutta nera è della serie ma se vuoi me la dai tu mi rispondono giustamente a parte quello a parte quello ma queste realtà in molte suture lo so lo so lo so le realtà peggiori quando arrivano a posto dei pantaloni dei leggings attilati come no ma il corpo non ce lo permette come no come no no è proprio sinonimo veramente di di declassazione proprio totale ecco non c'è non c'è non c'è una scusa che si possa trovare per una cosa del genere un non risposto della persona questo accade soprattutto nel reparto piani perché se andiamo a fare un momento locale no al ricevimento hanno una divisa bene li riconosci in cucina in sala ristorante hanno una divisa li riconosci il facchino ha la divisa molto spesso le cameriere e i piani per l'appunto magliette e pantalone o peggio mi sento magliette leggings ma io che vedo entrare io ospite che vedo entrare in camera mia una ragazza una signora in vestita così vestita senza un'identità io mi chiedo chi sta entrando in camera mia me lo chiedo sì solo perché ha il carrello e ha l'aspirapolvere e ha lo straccio in mano esatto solo perché c'è lì sempre che ci permettano di usare il carrello in corridoio ovvero Cornelia ne parlavamo ieri anche con il signore dei carrelli sostanzialmente che cosa succede proprio perché le persone che lavorano ai piani quindi le cameriere ai piani non hanno delle divise decenti non tutti per amore del cielo io sto parlando del peggio perché sono quelle cose che dovremmo vorremmo correggere vorremmo dare gli occhi prestare i nostri occhi a quei direttori che non osservano le cameriere ai piani molto spesso che cosa accade questa cameriera lasciamo perdere le egizze e pantalone il camice solito camice nero con il solito davantino bianco che magari ha anche le tasche il davantino bianco quindi riempito di tutto e di più ci mettiamo la linea cortesia il sapone i guanti il telefono le sigarette perché no il pacchetto di cracker perché poi succede anche questo noi vediamo delle mongolfiere che camminano perché intanto non è la sua taglia non è vestito sulla sua figura quindi è un sacco di patate in più riempito di tutto e di più noi guardiamo a 6 camerieri diciamo ma che cos'è quella cosa lì perdiamo la femminilità perdiamo la grazia la grazia che solo una donna può avere se ti vesti in un certo modo e sei aggraziata è bello anche te vedere una cameriera i piani assolutamente che non possiamo pensare sempre che ai piani basta che respiri va bene eh no 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 anzi ti dirò che è il posto delicato quanto la cucina perché come ti dicevo prima io come ospite vedo bene se la signora è in ordine mi dà una sensazione che abbia pulito bene la mia stanza che abbia pulito bene il mio bagno perché altrimenti io non mi sento sicura non non sto bene perché se non è in ordine di suo come posso pensare che vado a mettere ordine bene pulire la mia stanza che non gliene può pregare niente di lui Stefano ho sentito la voce di Stefano ma non era per noi quindi distivo l'audio Stefano ecco scusate eh incidente di percorso è il bello della diretta c'era una trasmissione quindi ritorniamo sempre a fare quel quel giro e cadiamo sempre lì nello stesso nello stesso punto quindi vogliamo educare le governanti che già sono molto educate su questo argomento di mantenere le sue ragazze le loro ragazze bene in ordine pulite ma anche con una bella presenza con una bella con un bell'aspetto proprio personale perché la divisa è importante a tenere legato tutto il team e a lavorare con piacere perché non devo vedere l'ora di togliermi la divisa per scappar via perché mi mi peso perché mi vergogno perché mi imbarazzo devo portarla con piacere però per portarla con piacere devo anche avere dall'altra parte diciamo la la forza motrice che ti diano quello che ti serve perché se non ti danno quello che ti serve è inutile che io ti dia dell'acqua con uno scopettone e uno straccio non posso pulire bene ti devo dare il detersivo ti devo dare il prodotto ti devo dare la divisa pulita che tu lo posso tenere pulita ogni giorno magari in due o barra tre perché tu abbia la possibilità quando vai a casa quando hai finito il tuo servizio cestini la divisa cestini il tuo abito e lo metti pulito il giorno dopo sulla pelle docciata pulita e allora tu non hai problema di niente questo è perché se io ti do solo una divisa solo un capo e tu devi lavorare con quello non mi serve perché io se non ho il cambio non posso pulirmi non posso lavarmi non posso stare in ordine questo è un altro argomento molto interessante è un altro argomento importante delicato Barbara scusa posso intervenire Fabrizio grazie infatti adesso stavo ascoltando perché giustamente appunto Mara io ascoltavo e nel frattempo riflettevo perché giustamente se tu vai a mangiare guardi nella cucina e ti aspetti di vedere non uno con i jeans o una maglietta buttata così no perché guardi il fuoco e quello è tutto figo con magari il suo vestitino nero la giacchettina no perché adesso gli fanno il bordino rosso tutto tutto in ghingheri no e in effetti magari nelle cameriere ai piani non c'è magari questa questa attenzione però giustamente come dice Mara c'è un aspetto che cioè vedere una persona che si presenta e mi entra a pulire la camera vestita in un certo modo e che si approccia sicuramente mi dà una sicurezza facevo una riflessione che arrivando diciamo dall'industria e quindi l'abito è l'abito da lavoro e quindi io mi aspetto che quando una persona va al lavoro si cambia mette l'abito da lavoro e soprattutto pensando alle cameriere ai piani oggi tutti gli argomenti che parliamo con i rischi tra virgolette che oggi la cameriera ai piani è sottoposta e può anche incorrere e quindi prodotti corpi che magari tocca la biancheria sporca del cliente durante la pulizia e tutto quindi ha maggior ragione devo avere un abito devo avere un ricambio devo poterlo lavare poi lì lasciamo aperto lo lava lo dovrebbe lavare l'albergo perché quello come logica dovrebbe essere perché è come per per un'azienda che ha la necessità di dare un certo tipo di igiene quindi si deve sobbarcare anche questa diciamo che va bene lo lava la persona però almeno gli abiti l'indumento corretto all'utilizzo poi la destinazione d'uso che ognuna ognuna delle persone deve fare dovrebbe essere il minimo quindi è importante che le governanti se non ci sono questi aspetti comunque si rifletta e si facciano delle considerazioni su questa cosa perché penso a oggi a tutti gli argomenti che parliamo su cosa vanno incontro le ragazze mentre lavorano e poi vanno a casa magari con lo stesso abito vanno a fare la spesa vanno a prendere il figlio magari ecco mi sembra un po' un po' paradossale come situazione sono riflessioni importanti che state facendo e che meritano appunto una riflessione da parte di tutti guardando avanti grazie grazie molte di questo intervento molto bello grazie puoi pensare ad un'altra cosa Fabrizio intanto chiedo a Cornelia o a Maria Rita chi di voi voglia vedere mi sei parlato il telefono o seguo qui e non mi va più quindi non vedo i commenti se volete seguire i commenti su housekeeping for you su Barbara e su quelli che lavorano in housekeeping così magari se qualcuno dice qualcosa non riesco più a vederli si è surriscaldato il telefono mi fa venire in mente una cosa Fabrizio la divisa la dovremmo indossare in struttura dovremmo avere dovremmo avere l'armadietto con la zona abiti civili e con la zona abiti da lavoro che ovviamente soprattutto se lavori per le società outsourcing non ce li hai perché non ci danno la possibilità di avere gli armadietti per tutti spesso sono in condivisione gli armadietti quindi anche questo è un altro argomento di cui andare a parlare e viene in mente appunto un sacco di cose ogni volta che facciamo una diretta si apre un mondo perché poi ci vengono in mente tante altre cose sì ma questo è importante Barbara quello che dici è così come stai dicendo tu adesso cioè questa cosa fa parte di quegli aspetti anche quando si parla di gene il fatto di avere l'armadietto la parte degli abiti civili la parte dell'abito da lavoro soprattutto per quelle persone dove come le cameriere e i piani possono incorrere a situazioni di contaminazione perché noi entriamo nelle camere la cameriera e i piani entra in una camera dove c'è la persona pulita la persona meno pulita la persona sana la persona malata quindi effettivamente l'abito da lavoro assorbe assorbe tutto ciò che c'è nell'aria in quella camera strofina con la biancheria sporca strofina col gabinetto come diceva in un commento prima Martina dice io questo non sono molto alta con questi grembiuli poi finisci che vai a pulire una vasca e ti ritrovi il grembiule inzuppato perché giustamente non sono all'altezza nostra e quindi ci inzuppiamo effettivamente assorbiamo l'acqua quando ci abbassiamo magari in una doccia per pulire fino in fondo il vetro e la nostra gonna tra virgolette tocca per terra ma poi perché sempre solo i grembiulini a ste povere donne ai piani voglio qualcosa di comodo diamogli un pantalone perché si possa muovere liberamente che se si abbassa un po' meno bene non si vedano le mutande cioè io parlo proprio da chi ha sofferto con il grembiule quindi quello che dovrebbe essere è che la divisa si indossa sul posto di lavoro dovremmo avere negli spogliatoi e per legge esiste perché lo spogliatoio ce l'ha dovremmo avere la doccia a disposizione del personale che però governanti curiamo un po' di meno molto spesso perché diamo importanza alle zone degli ospiti e a volte diamo meno importante alla zona degli ospiti interni che siamo noi che lavoriamo lo spogliatoio che ha le docce sporche perché è vero è il personale stesso che se ne frega perché non è la governante che va a sporcare le docce o i bagni ma la governante deve dare l'attenzione giusta alla pulizia e all'igiene dello spogliatoio perché la cameriera il facchino lei stessa possa togliersi la divisa farsi la doccia quindi eliminare lo sporco che abbiamo assorbito dalle camere dei nostri ospiti e mettersi gli abiti civili e poter andare a prendere il figlio il nipote con sicurezza perché lo andiamo a prendere a scuola all'asilo al parco lo possiamo abbracciare senza trasmettere tutti quei batteri che ci siamo assorbiti durante il giorno quindi l'argomento divisa è importante ma anche tutto quello che è attorno alla divisa le divise spesso si ha una sola divisa non c'è il cambio non c'è il ricambio come faccio a lavare la divisa che domattina mi serve asciutta e poi non è che tutti i giorni posso aver voglia di mettere la lavatrice per mandare avanti l'unica divisa per asciugare di notte non tutti abbiamo l'essiccatoio a casa non tutti abbiamo modo di poter spendere luce detersivo e acqua ogni sera perché ho una sola divisa non è neanche corretto Fabrizio diceva prima delle divise che allora le divise che sono del personale che lavora in hotel assunto dall'hotel vengono lavate in hotel o dalla lavanderia dalla tittoria esterna dell'hotel quindi chi è assunto dall'hotel di solito la divisa ce l'ha lavata igienicamente nella maniera corretta dai professionisti chi lavora in outsourcing purtroppo questo diritto non ce l'ha quindi deve portarsi quella divisa a casa se riesce a lavarla ma se io già so che stasera adesso che esco da qui devo andare a fare una commissione devo fare la spesa non riesco a fare la divisa lascio un armadietto puzzava perché sudiamo e domani me la rimetto che puzza anzi dentro l'armadietto mischiato ad altri perché magari ho l'armadietto in condivisione magari mi ritrovo la mia puzza dai diciamolo più bello il mio cattivo odore con il cattivo odore di altri due mie colleghe che abbiamo lasciato tutte e tre la divisa nello stesso armadietto pensate all'igiene a che punto immaginate i batteri come si scomiscono ma poi con quel vestito vai nella camera degli ospiti con quel vestito vai a prenderti dalla biancheria pulita i guanciali te li tiri su le federe eccetera gli asciugamani li prendi nelle mani li prendi gli accappatoi una cosa veramente da pensare e da ragionare da non ridire noi oggi siamo a fare riflettere su questo su questo elemento che è appunto la divisa riflettiamoci al di là che sicuramente una bella divisa elegante elegante che non vuol dire perfettina chissà come elegante è che ti sta bene addosso aggraziata sul corpo della persona una bella divisa con un tessuto che mi permette di far respirare la pelle quindi non questi sacchi di petrolio che abbiamo addosso perché sono sacchi di petrolio quello che si mettono addosso le cameriere piani che quindi potremmo avere delle divise migliori che ci durano negli anni non vogliamo arrivare ai 14 anni del grande ottimo sono stati veramente ultra bravi reception premetto possiamo farli durare qualche anno come il resto ognuno a casa nostra la biancheria a parte se ingrassiamo o rimagriamo ci dura negli anni guardiamo questa maglietta ha 25 anni ecco vedi guardate che il mio figlio grande non aveva un anno quindi ha 25 anni e si è solo scolorita qui che era blu scuro e adesso sembra blue jeans per dire le cose se vuoi le fai durare quindi la divisa noi prendiamo delle divise dimmi dimmi Fabrizio Barbara ma una domanda ma tu adesso parli appunto perché io la divisa la vedo anche diciamo che identificativa dell'albergo sì allora mi domando ma l'albergo cioè l'albergo che abbia che siano suoi dipendenti o dipendenti oppure che poi dia in outsourcing il servizio non cioè non fa mai delle richieste oppure magari non lo so non ci pensa a questo aspetto perché magari poi corri 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 e poi anch'io no giustamente sono a far ripetere io guardo il cuoco però non avevo in mente no nel senso guardo con la stessa attenzione quando vado e quando soggiorno la cameriera ai piani come è vestita sicuramente lo noto molto di più se è una cucina aperta e vedo uno che è lì in qualche modo ecco e allora dico ma mi lascia un po' e quindi adesso la domanda era ma cioè secondo te l'albergo appunto non ha non fa delle richieste perché poi è la sua immagine che ne va quindi mi immagino che come sceglie la biancheria e che quindi mi chiede magari quel tipo o quell'altro tipo o la fede era fatta così anche lì dico le cameriere o le persone che io faccio entrare nella struttura voglio o perlomeno dici guarda devono essere tutte fatte così ecco non che una arriva come dite voi con la maglietta dei kiss piuttosto che con ti rispondo con un commento di Jacob Natalia perché io mentre lo pensavo intanto mi si è riacceso il telefono e riesco a vedere i commenti l'albergo purtroppo pensa poco alla cameriera ai piani è vero è vero perché è emarginata in un altro mondo ed è la cameriera ai piani che dà da lavorare all'albergo ragazzi mettiamoci è vero è vero è vero è verissimo Barbara perché si pensa che la cameriera ai piani vada nella stanza quando naturalmente il cliente è uscito quindi chi la vede nessuno non è vero perché la cameriera ai piani la incontri nei corridoi la incontri negli spazi comuni che comunque fa i suoi ripassi fa le sue pulizie la puoi incontrare bene anche se ritorni in camera c'è la signora che ti rifà la camera e tu la vedi bene non è nascondibile assolutamente no questo mi è successo a Nizza ero a Nizza a fare qualche giorno in un albergo e ho trovato da ridire sul bagno per cui ho chiesto che mi finissero a fare un ripasso non solo rompiballe ma era sporco di pipì quindi viene su questa signora lasciamo perdere quello che housekeeping non vi racconto come ho visto pulire il bagno ma lei è salita con questa divisa che mi sono ricordata io con il vestito dei puffi come lo chiamavo all'epoca con il grembiule questo suo grembiule era righe invece bordeaux e bianco che poi sono anche belli se sono della tua taglia tenuti viene con questa divisa che mi sembravo io 25 anni fa che gli arriva mezzo polpaccio che puzza di sudore e io ho detto cazzarola me lo pulivo io di fatti io adesso negli anni che ho iniziato a sono cresciuta un po' e viaggio per lavoro io mi porto il detersivo e mi porto in microfibra in microfibra poi li butto lì perché non me li riporto indietro il detersivo se ci riesco ovviamente me lo riporto indietro ma l'idea che vedi entrare una cameriera in camera tua conciata male puzzolente fa schifo è la prima premessa che ho fatto la prima la prima in assoluto e quello è e quello è Cinzia scrive qualcuno ci chiama ancora la donna delle pulizie brava Cinzia non ci danno non vi danno non danno al ruolo l'importanza anche quando si parla ogni tanto metto dei degli annunci per qualcuno che chiede personale cerca personale quindi posto qualcosa sono cameriera e mi rispondono magari in privato sono cameriera cameriera di che? che cameriera sei? sei cameriera di sala? sei cameriera ai piani? che cameriera sei? neanche la cameriera Cinzia purtroppo spesso sa dire che è una cameriera ai piani il ruolo è cameriera ai piani questo è volentieri quando vado nelle scuole io insegno in una scuola in Trentino Alto Adige quando vado io vado sempre seguo sempre le classi del primo anno quindi seguo sempre persone nuove e ogni volta chiedo che cos'è la governante? chi è la governante? quella delle pulizie mi rispondono quindi ancora oggi nelle scuole dove si insegna istituti alberghieri piuttosto che istituti di alta formazione professionale non sanno distinguere i ruoli purtroppo però neanche noi negli alberghi perché quando vai a raccontare che lavoro fai faccio le camere che vuol dire faccio le camere? le costruisci? le disegni? oppure le disegni per fare il geometra cosa fai? cioè e non devi neanche dire pulisco le camere sono una cameriera ai piani ai piani certo cominciamo a darci noi l'importanza perché se vogliamo arrivare a dare un ruolo al settore dobbiamo noi darci l'importanza indossare la divisa con orgoglio se è brutta pazienza cerchiamo almeno di portarla gallata non col davantino sotto l'ombelico perché lì vabbè con il grambulino che gli mette le tasche pesa tutto quello scende difatti quindi evitiamo di mettere i grambulini con le tasche ecco quindi sostanzialmente dobbiamo noi indossare quello che abbiamo perché questo ci passano con dignità e con orgoglio e poi se cerchiamo noi governanti che forse un po' di più ci possiamo spingere con le nostre società con le nostre aziende a cercare una divisa decente per la nostra cameriere piani e anche una divisa con un tessuto che le faccia stare bene perché i tessuti sono importanti Mara io ti ringrazio davvero per questa tua esperienza Cornelio e Dio quanto prima verremo aspetto prima di operarmi che non so come cambio fisicamente nel tuo atelier perché ho proprio il desiderio di una divisa fatta da te perché come ti ho detto lo scorso anno quando ti ho conosciuta qui veramente c'è la qualità e c'è il bello quindi io sarò onorata di vestire te e Cornelia con molto piacere grazie e per tutti che lo volessero noi siamo un'attività che diciamo esercitiamo a Rimini abbiamo un diciamo un settore di commercializzazione un settore di produzione quindi per le specializzazioni per tutte le le tipologie poi noi come dicevo prima possiamo arrivare a coprire al 90% delle esigenze del nostro cliente quindi questo è il nostro biglietto da visita non siamo niente e nessuno per essere meglio degli altri però facciamo questo lavoro con passione assolutamente da tanto tempo con entusiasmo e anche con un piccolo successo questo lo devo dire sì siamo cresciuti siamo cresciuti bene diciamo con l'aiuto dei nostri clienti questo perché ci si mette la passione ci si mette certo e come dici te la faccia come dici te la faccia quando ci metto la faccia e quindi noi siamo qua esatto esatto bene allora noi siamo su internet non siamo su internet che fai un click compari fai un click scompari no noi siamo qua da 25 anni a questa parte noi siamo qui presenti con la nostra azienda e disposti a così ad andare incontro alle esigenze di chi ne ha bisogno grazie Mara grazie a tutti contattare contattare Mara mi contatti che vi giro i suoi i suoi contatti grazie tutte le persone che sono ancora con noi su su facebook siamo siamo un bel gruppettino grazie non vi nomino tutti perché tanto a un certo punto mi fanno vedere solo quattro o quattro post quindi non so come nominarvi tutti quanti però ringraziamo tutti la prossima settimana ci occuperemo c'è Franco Silvestrino se non erro parleremo di carrelli di come riempire i carrelli di ergonomia quindi di come consumiamo le energie nel costruire nel vestire un carrello nel riempire un carrello nella maniera corretta o nella maniera sbagliata cosa cosa si dovrebbe fare quindi sarà interessante anche la prossima settimana noi ringraziamo per voglio ringraziare tutte le persone che ieri sono state a Milano con me al Genius Hotel Downtown che abbiamo fatto una bella esperienza le persone sono arrivati feedback sono tutte contente di tutti i professionisti che siamo stati lì a raccontare un po' il mondo degli invisibili qui del diritto degli alberghi ricordiamo che se volete iscrivervi all'associazione italiana operatori hotel potete scrivere una mail a info.associazione a i o h chioccio punto com e appunto potete chiedere informazioni o già direttamente scrivervi chi ha ricevuto le informazioni vi ringrazio ci vediamo giovedì prossimo Mara spero di riuscire a venire molto presto da voi da te e ringrazio Fabrizio sarai gladissima grazie grazie a te Barbara per questa organizzazione splendida e come sempre ad alto livello professionale veramente grazie e complimenti per la tua professionalità mi circondo di voi che siete dei professionisti siete persone che mettono il cuore nel lavoro quindi questo questo fa la differenza con tutti quindi grazie anche a Stefano che è in nero quindi non lo vediamo un abbraccio a tutti macchina come al solito come al solito devo cambiare l'orario lo faremo più tardi il 10 giugno lo faremo più tardi oramai sono organizzate fino al 10 per questo orario un abbraccio a tutti a presto grazie 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 ciao ciao Barbara ciao Cornelia ciao ciao Mara grazie ciao ciao